E' stata una partita bellissima, abbiamo vinto meritatamente, penso che si è visto da fuori. E secondo me questa vittoria serve per sfatare quello che pensano tutti, che quest'anno ci dobbiamo salvare. Però io penso che quest'anno noi possiamo lottare per i prof tranquillamente. La partita è andata bene fino a un certo punto, quando poi siamo andati sotto sul 3-1, chiaramente ho detto alla squadra di prestare un po' più alti. Abbiamo fatto qualche fallo gratuito, tanto è vero che il Parete poi ha preso il largo su tutti i calci di punizione dai 10 metri. Sono stati bravi a realizzare le tre punizioni, quindi queste hanno fatto la differenza. Però se una squadra meritava di essere in vantaggio, almeno fino al 40-45, questa era la nostra. Purtroppo siamo stati puniti dalle nostre ingenuità, ma anche e soprattutto dalla bravura del Parete a saper interpretare la partita in quel modo e con i calci di punizione dal limite a vincere la gara. Grazie a tutti.